Ciao a tutti da Fabrizio e vi parliamo adesso in questo artico di un problema che è abbastanza sovente in chi utilizza Wordpress, sovente no ma non può capitare, specialmente quando il vostro blog comincia ad essere datato e avete provato e ritrovato molti plugin che hanno modificato la cache del vostro blog. Il problema che vi sto per raccontare è quando una vostra categoria del vostro blog restituisce non la pagina che avete cercato ma l'errore 404, ossia not found, come potete vedere in questo caso proprio del sito di Noi Solutions. Come fare? Generalmente quando succedono questi tipi di errori la prima cosa che viene in mente di fare è prendere tutti i plugins del vostro blog e disinstallarli uno a uno per vedere quale è che sta malfunzionando e quindi corre a rimedi in questa soluzione, in questa maniera. Quindi aggiornarli tutti e aggiornare tutti i temi e vedere se è qualche blog, se è qualche plugin che sta malfunzionando. Può capitare che c'è un errore pregresso e quindi che vi siete portati dietro nel database da molto tempo e quindi questo non è più necessario, allora bisogna operare con una procedura diciamo di imperio. Bisogna ossia prendere con un collegamento FTP oppure direttamente se avete plugins da SEO andate in strumenti, aspettiamo un secondo, allora è avanzate, non è strumenti ma è, ah no era strumenti, ho indovinato. Modifica file E ritrovate il robot txt e anche il vostro file htaccess Questo commesso ora è proprio quello standard, senza nessuna modifica, ossia il basic per wordpress. Ci mettete questo htaccess base e salvate i cambiamenti in htaccess oppure dovete fare questo in FTP ossia prendete questo, lo copia e incollate in un file notepad in questa maniera e lo salvate con estensione save as punto htaccess e dopo lo portate con un FTP tipo Filezilla nella directory radice dove risiede il vostro blog wordpress altrimenti vi consiglio caldamente di utilizzare SEO Yoast che fa tutto questo automaticamente una volta fatto questo dovete andare in impostazioni mettere come categoria base per esempio nel mio caso scelto categoria base del tag mettete ultimissime tanto va tutto bene salvate le modifiche ah mi ero dimenticato ma ovviamente sono in impostazioni e permalink come potete vedere dalla didascalia nella vostra sinistra e una volta salvato se io vado per esempio in categoria bing quanti articoli ho? nessuno vado in categoria cellulari dove ho 10 articoli fra a breve mi si dovrebbe visualizzare tutti gli articoli presenti nella categoria cellulari e come potete vedere il problema è quindi risolto con questo è tutto ciao e buonasera da Fabrizio